E voilà carissimi amici di Medical Snake, sì avete visto è arrivato un nuovo pacco da parte di Amazon ed è un accessorio che mi serviva veramente tanto sperando che sia quello giusto per l'uso che ne dovrò fare ma ok ci vediamo subito dopo la sigla allora ragazzi eccoci qua allora inquadratura un po' diversa ma volevo variare un po' sta cosa allora pacco, cottellino e andiamo ad aprire subito il pacco magari alla fine se riesco vi porterò anche magari una videoprova di questo accessorio e poi tra l'altro è un accessorio che tratta la fotografia infatti eccolo qua, la New Year lo stesso produttore di cui avevo acquistato i softbox un po' di tempo fa allora e da qui potete già immaginare quello che ci potrebbe stare all'interno di questo pacco allora apriamolo con violenza, ve lo alzo un attimino allora vediamo prima quello che ci sta all'interno ok abbiamo, cos'è questo? forse per i ringraziamenti boh vediamo un attimino si i soliti ringraziamenti da parte di New Year la stessa, lo stesso di quando avevo acquistato i softbox ecco qua parte italiana, non so se si legge ok il manuale delle istruzioni in lingua orientale allora e qui abbiamo l'accessorio che mi serve allora vi faccio subito vedere la cosa lo tengo qua e ve lo alzo pian pianino allora ragazzi ecco qua allora questa è una testa fluida allora volevo acquistare sta testa fluida già da molto tempo però non l'ho fatto ma ho fatto solo ora perché la stavo monitorando su Amazon che più o meno questa qui costava attorno ai 40 euro poi è scesa a 25 euro ho detto ok acquistiamola subito e facciamo questo esperimento non che un esperimento ma un accessore che mi serve comunque per le mie riprese video allora io adesso stacco qui questa parte di video monto la testa fluida e magari vi porterò qualche ripresa volevo fare questo unboxing scusate la voce sono leggermente influenzato e dai la vado un attimino a provare vediamo un attimino ah qui abbiamo anche lo sgancio rapido della piastra questo è una buona cosa allora sì devo solo capire poi come rimettere qui tutto all'interno non vorrei già scassarla questa cosa ok vabbè ah ok ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito allora ah bene sì ok ho capito più o meno il funzionamento di questa testa fluida allora ragazzi io la vado a montare sul mio treppiedi e poi vi farò anche qualche video ripresa da questa testa fluida allora miei carissimi amici di mitico snake sto qua e infatti ecco la testa fluida e la devo montare al treppiedi quindi vabbè per chi non lo savesse spostiamo un attimo il telefono da questa parte allora il treppiede va montato alla base scusate la testa fluida va montata sulla parte superiore del treppiede per chi non lo sapesse quindi cosa dobbiamo fare rimuovere la piastra che va sul treppiedi e montarla direttamente sotto la testa fluida in questo modo proprio come se stessimo montando una fotocamera quindi io lo vado un attimino a fare e vado a chiudere il tutto allora e una volta che ho fissato il tutto siamo pronti a fare le nostre video riprese allora siamo pronti e vado subito a montare la mia testa fluida qua su ok quindi visto che questa qui nella parte inferiore del treppiede non mi servirà più la vado a fissare quindi la blocco del tutto che non ci servirà più magari tengo sbloccata solo la parte dove devo regolare l'altezza dei treppiedi quindi vado a bloccare anche la parte che gira questa qui quindi non mi servirà più ok facciamo in questo modo in modo che non vada a muoversi allora però mi sa che mi scappa qualcosa ma vabbè io inizialmente utilizzerò proprio questa qui vedete come gira in modo davvero fluido senza alcun tipo di problema ma devo dire che è veramente fantastica sta sta cosa qui vediamo un po' e beh sì mi consente di regolare anche ragazzi ragazzi non dirmi nulla ma io la devo provare del tutto sì no ragazzi allora devo dire che è veramente fantastica allora però devo fissarla meglio questa qui sotto perché se no mi gira tutta mi gira ok ok fissata in modo adeguato che se no mi girava tutta la parte vediamo un po' sì no dai allora apriamo eh sì allora in base alla tensione siamo capaci di regolare capaci di regolare come vogliamo girare la nostra testa fluida vedete quindi un movimento io basta che muovo solo con un dito anzi vi faccio vedere tengo bloccato questa parte qui ma anche con il mignolo guardate un po' che movimenti si riescono a fare allora io adesso stacco questa parte video e vi faccio qualche video ripresa e vediamo un po' come vi sembrano e ci vediamo alla fine di questo video ciao beh amici di Medico Snake come avete potuto vedere avete visto alcune video riprese fatte da questa testa fluida devo dire che anche io ne rimango veramente sorpreso di questa cosa anche perché non credevo riuscisse a fare veramente delle riprese così nitide nei movimenti fluide che poi tra l'altro devo farvi notare una cosa sbloccando la parte superiore dove poi andrà montata la fotocamera o qualsiasi tipo di dispositivo guardate un po' diciamo lo stringente che sta nella parte inferiore della base dove va montata la fotocamera o qualsiasi altro tipo di dispositivo è in acciaio e questa è una cosa buona rispetto allo stringente in plastica che ci sta sul mio attuale treppiedi beh dai devo dire che sono veramente rimasto soddisfatto anche se l'ho utilizzato per qualche videoripresa dimostrativa qui in questo video però dai ci sta quindi credo che chiunque faccia video debba avere questa questa cosa qui debba avere questa testa fluida in modo da avere delle riprese magari su di oggetti o qualsiasi altro tipo di videoripresa in modo veramente molto fluido e senza nessun tipo di scatto anche perché io nelle videoriprese precedenti che ho postato fino a qualche settimana fa qualche domenica fa ci stava qualche piccolo scatto di troppo durante quelle videoriprese adesso con questa qui non ho più questo tipo di problema e posso fare anche delle riprese come avete visto dal lato verso il basso dal basso verso lato destra verso la sinistra e così via in modo fluido senza scatti e sì dai mi divertirò un po' con questa testa fluida adesso non dico di lasciarla montata a tre piedi perché poi devo riporre tutto nell'apposita custodia ma la tirerò fuori al momento del video e poi l'altra cosa che mi piace di questa testa fluida è che ha uno scatto dove va a bloccare questa qui poi magari in video approfondito ve ne parlerò della mia attrezzatura della mia attrezzatura diciamo nuova poi quella che è attuale ho variato solo qualche cosina la cosa buona che la base superiore va direttamente ad incastrarsi tramite click della parte superiore e possiamo bloccarla senza alcun tipo di problema beh che dire fantastica allora se anche voi vorreste acquistare questa testa fluida qua in basso nella descrizione vi lascio il link su Amazon per poterla acquistare soprattutto con spedizione Prime ve lo lascio qua in basso in descrizione e adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti vi raccomando se avete qualcosa da dire chiedetelo pure parliamone ma qualsiasi cosa vogliate e innanzitutto lasciate tutti i vostri pollicioni in su e partono le animazioni eccole qua che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividere questo video perché aiuta molto il canale un attimo oddio sto registrando si aiutano molto il canale e mi trovate anche su instagram chiocciola miticosnake vi lascio il link anche qua in basso in descrizione si vabbè iscrivetevi attivate le notifiche condividete il video sono su instagram ho detto tutto credo di aver detto tutto ma in altri casi già sapete la trafilla di quello che io vorrei dire e noi ci vediamo sempre qui in un prossimo video domenica mattina ciao adesso mi divertirò videoriprese benide a me ciao 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 ciao